È bello, no? Pensare di avere almeno una cosa sotto l'ontrollo. Soprattutto se pensi di riuscire a controllare niente. Diciamo che è un momento un po' difficile. Hai sentito qualcosa? Che cosa? Non è venuto nessuno. Questa è l'alternativa alla lista neofascista. Ma che davvero? Come sai, facciamo un po' cagare. Alle feste giornate? No. Stato ciò come siamo messi. Contenuti beceri, qualcosa di coatto. L'unica cosa che conta è la popolarità. Su quello non è che siamo proprio fortissimi. Ma fate l'analisata ogni tanto. Comunque mi manchi, eh. Anche tu? Davvero? Ne ho bisogno di un attimo per capire che cosa sta facendo. Asia! Io non capisco te. Lo sai, io non sono molto felice ultimamente. Ne hai parlato con le altre? Che ci aveva assediato? Tutti pensano che io sia forte, ma ho mai bisogno d'aiuto. Appena mi svegli mi vuoi richiamare... ...e sociale. ... entrance. ... I love you.